Secondo lei le possibilità che il virus vada al sud sono elevate? Il virus succede già al sud, è semplicemente differito di 14 giorni rispetto all'Italia. In Cina abbiamo fatto l'analisi delle dinamiche del contagio prendendo in considerazione Hubei, le province confinanti e tutto il resto della Cina. Le dinamiche sono esattamente le stesse in Italia. La zona del nord, Lombardia, Emilia e Romagna, Veneto, poi le province confinanti, la Liguria, il Piemonte, il Friuli, adesso le Marche. E poi c'è la terza zona che è quella del sud Italia. Ma le dinamiche sono esattamente le stesse, differite di 10-15 giorni.